Vergine dell'Ascolto Uniamoci al Celeste Messaggero e congratuliamoci di cuore con la nostra Madre Santissima per i grandi tesori spirituali di cui fu di piena. Scongiuriamola che si muova a pietà delle nostre miserie e ci metta parte di quella grazia di cui è ricolma. Preghiamo Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la Tua parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'Ascolto e con la forza del Tuo Spirito fa che noi, pure, diventiamo luogo santo in cui la Tua parola di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. Amin. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amin. Fioretto Oggi rifletterai sulla Tua personale chiamata e vocazione, cercando di fare ciò che Cristo ti ha chiesto di fare.